Il salotto buono da ieri è illuminato, il resto della città chissà e se lo sarà come. Si accendono ufficialmente le luci di Natale in Piazza dei Martiri con un profluio di LED e colori, ma anche con le solite palle, riproposte per il terzo anno di seguito. Cerimonio ufficiale con tanto di telecomando per l'accensione ad effetto con il sindaco, Luigi De Magistris, l'assessore all'arredo urbano Ciro Borriello, il presidente del consorzio Chiaia, Carla della Corte, la vice Roberta Bacarelli e alcuni commercianti della zona. Ospite ufficiale il cantante Peppino Di Capri che per l'occasione ha cambiato piazzetta. Questa cosa è un doppio simbolico momento che stiamo attraversando e io mi auguro che queste cose portino un attimo di gioia, di felicità e soprattutto serenità per questo Natale che è in arrivo. Dimentichiamo per un attimo tutti questi media che ci bombardano di queste notizie e cerchiamo di riunirci in questa occasione con la famiglia e pensare positivamente al nostro futuro. Il consorzio si è fatto promotore dell'illuminazione delle strade secondarie di Chiaia, via Carlo Perio, via Bisignano, via Vannella Gaetani, via Cavallerizza, alla Bardieri, Belle Donne, Vicoletto, Belle Donne e via Nisco, ma anche via Carducci e San Pasquale. Addobbate a spese dei consorziati e dei commercianti, ci sono dei dissidenti davanti ai loro negozi, lampadine spente. Nelle strade principali le luci sono state accese invece da Palazzo San Giacomo. Restano alcuni buchi neri però, anche se Natale è sempre per tutti.